Ehi ciao a tutti io sono Cinzia e benvenuti in questo nuovo video con me è la mia piccola baby ciao batata ci vieni con me a fare il video con la mamma vieni con me perché oggi oggi andiamo a vedere la tua cameretta la mia piccola baby ha due mesi e mezzo e già mette la manina in bocca e mi sa che ha fatto la cacca questo è sicuro va bene allora siamo qui questa non è la camera di emily queste sono le mie riprese ma lì che cosa c'è quando lo sistemiamo domani 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 lo sistemiamo che poi non è rotto è semplicemente ci manca qualcosa è colorato bello questa non è la camera di emily no qui c'è l'ufficio e anche quello è cambiato se lo volete vedere mettetelo nei commenti ciao ciao vedete papà bellissima ma che sei bella ok ma che sei bella ehi ehi ci sono anch'io e io con i miei questa invece è la porta magica e la tua cameretta questa tocca tocca siete pronti? prima io ho messo la musichetta grazie vi lascio anche il video dove ho fatto il room tour perché questa prima questa stanza era il mio ufficio ed esso è totalmente diverso tranne un piccolo dettaglio qualche piccolo dettaglio vabbè comunque siete pronti? 3,2,1 andiamo amore? 3,2,1 lei stava dormendo prima comunque questa catenella non va bene è questo ok il ciuccio andiamo 3,2,1 benvenuti nel scusa 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 ho sbagliato l'ingresso rifaccio vai fai scusa 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 rifacciamo l'ultima volta vai vai non spoilerare troppo mi fermo qua fermati lì esatto entriamo in questa cameretta di emidi scusa però non a cosa te la posso dire cosa? ma la potevi ordinare cosa c'è di disordinato? eh ma queste sono cose che non sappiamo dove mettere non ti devono inquadrare ok va bene e c'è il passeggino leggero quindi devo fare le riprese così ok poi così va bene non si vede nulla è tutto ordinato vai alla mia destra di fronte non appena entriamo abbiamo l'armadio della mia piccola baby che non vi faccio vedere se volete vedere tutto il repertorio dei vestiti di mia figlia mettete un pollice in su arriviamo a 5000 like 5000 like e vi faccio vedere tutti i vestiti di mia figlia che ragazzi sono tantissimi posso confermare posso? posso semplicemente dire che lei cinzia questa donna di qui non compra più vestiti per lei ma solo per sua figlia questa cosa è alquanto assurda è la mia piccola unicorna dietro di me posso? sì 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 ok dietro di me c'è la libreria con un po' di disordine là sopra ok va bene questo è normale va bene ci sono i fumetti la sopra ci sono lego e cose giocattoli poi abbiamo un reparto harry potter E poi c'è, vabbè, qui ci sono la nananana surprise, nananana, pikachu, altri fumetti. Vabbè, poi giù non vado perché va bene. E qui cosa c'è invece? Ci sono le mie piccole principesse, la mia collezione di piccole principesse. Con che io ho due figlie. Ma quelle nascono già da prima di Emily. Va bene. Questa che te l'ha regalata? Questa tu. Ok. Finito di vantarti? Sì. Ok. E dobbiamo andare di qua. Di qua. Lo seguiamo di qua. Di qua. Perché di qua abbiamo tutto come prima. Il letto, non spoilerare la tenda. Già si è vista la tenda. Fantastico. Il letto che è un po' in effetti disordinato, ma vabbè. Il mio cuscino BBB tantissimo. E ormai non ci sono più. Lo dobbiamo rifare comunque. Il merchandising non c'è più, lo rifacciamo. Non inquadro la tenda per ora, va bene? Ma si vede dietro di me la tenda. Lo lasciamo alla fine. E poi qua abbiamo quello che c'era prima. E lo lascio perché comunque per una bambina... Questo che forse non l'ho mai fatto vedere. Certo che l'ho fatto vedere. Hai il mio silver button. Quelle sono le... Nanana? No, sono le LOL giganti. Belle. Uno, due, tre, quattro. E hai ancora? Basta. Queste che te le hai regalate? Tu, Lumière. Faccio vedere la tenda. Lo fai vedere a Lumière però? Sì. A Lumière. Che te l'ha regalato? Lumière, tu. Te l'ha regalato, ok. Poi c'è Mrs. Brick e Kiko. Queste non te le ho regalate, vero? No, così le ho comprate io da Primark. A Primark. E poi questo in realtà è da sistemare. Questo me l'ha regalato mia nipote Sofia per Emily. E questo Perouche dove l'hai comprato? E questo Perouche l'ho comprato due mesi e mezzo fa. Che belle ciglia che è mia figlia. Bella mia. Ok. Poi abbiamo la tenda. Che posso fare vedere? Sì, puoi fare vedere la tenda che ha le farfalline, tutte colorate e anche le nuvolette, tutte colorate. E quindi niente, in questa camera mancava la tenda perché essendo un ufficio non l'avevamo messa. Cioè ce n'era una così. Con 7542 euro più IVA abbiamo comprato la tenda. Ma che cosa stai dicendo papà? Ma è un imbroglione. Se scendi giù vedrete un esemplare. No amore, no per terra. Che stai facendo? Scendi giù. Scusa, avevo capito male. Ragazzi scusate, se vomiterete è colpa di mio marito che fa le riprese buffe. Ma tu puoi stare ferma comunque. Ogni volta che ho te figlio. No ma anche quando non hai i miei figli ormai balli. È vero, ormai ho il tì. Va bene, ferma. Qui abbiamo una piccola altalena. Usata due volte. Due volte perché non appena metti mia figlia qui, vediamo. Facciamo una prova. C'è il tastino, sai Gio? Si può accendere. Sì però non l'ho legata. Qua si accende e poi si fa così. Non è che me la lanci la bambina. No, ci sono io. Si sta muovendo. Oh, 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 troppo veloce. Vacci piano eh, che c'è la mia baby lì sopra. Non fatelo a casa ragazzi. Don't try this at home. Ecco, non è molto convinta. Guardiamola in viso. Yeee, la tele... C'è anche le musichette eh. Va bene, prendila prima che ci... Va bene, questo si stacca. Cucu. Ta-da! Questa è la novità che si mette il labbro. Da vero, perché? Non lo so. Ci mette il labbro così. Non si vede, sta inquadrando me. Queste sono sempre le inquadrature orribili di mio marito. Sempre giù. Troveremo un bel... Quando glielo ho mai messa, glielo proviamo a mettere. Che carino. Grazie agli zii, Giusy e Lollo. Amore. No, no. Niente, questo proprio, questo proprio è no. Questo è no, questo è no. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ok, più in là, più in là, lo riproviamo. Pi in là, va bene amore. No, 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 no. Cuccio. Ecco, questo video finisce qui. Se volete la seconda parte, il prossimo mese. Si è graffiata lei, guarda. Si è graffiata lei, guarda. Ma va bene, ma vabbè, andrà via. E al mio tre, facciamo vedere la parte più meravigliosa, meravigliosi. Tadam. Tadam. Qui abbiamo la culla. è il muro delle meraviglie, con la scritta Emily, qui c'è il fiocco nascita che fa poi abbiamo Minnie, amore, qui c'è Minnie, Minnie piccola, questa è Cinzia, questa è Emy, esatto, proprio così, secondo te tua figlia ci sta dentro la culla? non provare, non penso proprio, non penso proprio, e questo è il dudu, mi hai usato? no perché dicono che non va bene metterlo nella culla mentre dorme, piccola baby, perché puoi soffocare e non va bene però abbiamo anche qui un grande coniglietto, ti piace amore questo? mi hai fatto arrabbiare a mie figlia e qui abbiamo il fasciatoio, con dentro tante cose belle, se le volete vedere ve le faccio vedere nel video dei vestiti qui abbiamo il metro, dove mia figlia Emily si misurerà mi sa che ancora non è neanche 60 centimetri tua figlia, quindi non arriva neanche lì no, ancora no no, perché penso che siamo, tipo, quanto sei? 58? sarà 58? eh, bimba, ti sei graffiata, sei monella e quindi, niente, fai vedere bene quanto è bella la cameretta qui c'è il mangiapannolini pure, abbiamo tante cose ma tu lo sai che c'è anche lo zoom manuale? che ti avvicini questa è la cameretta di mia figlia ma cosa vuoi? cosa vuoi? ti seguo ta da 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 Emily ti piace la tua camera signorinella ti piace la tua camera amore ti piace la tua cameretta amore va bene comunque mia figlia si sta mangiando la mano madonna ma che fai ti mangi tutta la manina non ci entra tutta o forse si va bene ragazzi saluta 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 a tutti fai una linguaccia a tutti va bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto non c'è nient'altro da farvi vedere perché la cameretta è finita cosa è successo ti è caduto un po di caffè sui pantaloni di tua figlia va bene ok dobbiamo andare questo video è stato proprio una cacca ci vediamo al prossimo video ragazzi andiamo a cambiare Emily tutta non solo il pannolino e niente mi raccomando iscrivetevi al canale mettete un pallicero in su non proprio così ma meglio e noi ci vediamo al prossimo video facciamo vivi vivi tantissimo vivi tantissimo ciao ragazzi